Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Powerwash Simulator, il mio gameplay walkthrough let's play di questo simulatore molto particolare che trovo estremamente rilassante, spero sia lo stesso per voi, fatemelo sapere in caso con un mi piace, un commento, condividendo il video e iscrivendovi al canale se vi va. Nello scorso episodio avevamo giocato a livello furgone, in cui avevamo pulito il nostro furgone delle pulizie. Ora tocca al secondo livello della carriera, pulisci il giardino, quindi andiamo subito. Ehi, spero che ami le sfide, perché credo di avere il giardino più sporco che tu abbia mai visto. Non mi sto vantando, in realtà io non c'entro niente, sono appena tornato per fuori città per dare una mano ai miei, che hanno una certa età, e ho preso in affitto quella che pensavo fosse una casetta deliziosa. Forse avrei dovuto chiedere perché non ci fossero foto del giardino, pare che ci abbiano allevate i rinoceronti. Comunque le mie figlie non vedono l'ora di uscire e non voglio che al ritorno trovino ancora questo disastro, quindi, per favore, fai quello che devi fare. Grazie mille, Cal. Ok, dettagli, qui abbiamo come al solito tutte le cose che dobbiamo fare. Pietre e vialetto saranno quelle che dovremmo pulire per prime per sbloccare l'obiettivo. Messaggi. Sei tu l'implacabile Dr. Powerwash? Ho avuto i tuoi dati dal tuo amico Harper. Avrei davvero bisogno di una mano qui a casa quando è il momento libero? Ok, dai, andiamo. Eh, no, non voglio pulire il furgone, voglio iniziare questo. Ecco qua, il giardino. Let's go, let's go. Continua. Ok, ci siamo. Iniziamo quindi pulendo le pietre? E stranamente è dove una volta viveva la mia prima ragazza. Florian Perez. Bei tempi. Eh sì, proprio bei tempi. Lo erano, lo erano. Ok, prima pietra tolta. Perfetto. Pudiamo anche quest'altra pietra. Oh, si guarda lì come deterge tutto. Ecco qua. Poi noi tra l'altro dovremmo probabilmente avere anche, no, passeremo da Etamira e apri chiudi l'inventario. Ecco qua. Idropulitrice. Prolunga. Ugello. Detergente. Non abbiamo un detergente. Abbigliamento. Ok, abbiamo solo questo. Idropulitrice. Superficiale. Incrostato. Infiltrato. Resistente. Ostinato. Radicato. Oleoso. Un'idropulitrice di potenza limitata. Valida e versatile. Però abbiamo solo questa per ora, quindi ce la dobbiamo far abbassare. Ok, andiamo a pulire con calma tutto quanto. Oh, si. Io, come già detto nel primo episodio, parlerò poco durante questo gameplay, perché trovo che sia rilassante così com'è in realtà il gioco, non c'è molto da commentare, se da semplicemente pulire. guardate tutte le impronte, tra l'altro, che ci sono. guardate tutti. Ok, è infatti arrivato l'obiettivo Ora direi di finire di pulire magari questo cornicione Ecco qua, anche questo Perfetto Il violetto è sporco? No, il violetto è pulito Ok Allora, continuiamo con magari questo Eccoci qua Questa cuccietta Puliamo per bene il tetto Allora, continuiamo per bene il tetto Noi possiamo cambiare anche modalità di mira con questo, vero? Con Non mi ricordo bene con cosa Anche con questo possiamo anche non tenere premuto, perfetto Con il tasto destro Però c'era anche modo di cambiare ugello Forse andando qui Ok Ok, ugello 0 gradi, dammi questo Per lo sporco magari un po' più incrostato Abbiamo le pareti della cuccia che sono ancora sporche Anzi era tutta questa di qua, ok Però c'è anche il tetto da pulire, no? Voglio abbassarmi un secondo Ecco, magari è qui da pulire Il tetto della cuccietta Ecco fatto Cos'è che manca? Strano Un tab Facciamo vedere lo sporco, vero? Ah, manca tutta questa parte di qua Ok, ok Ma il tetto però? Forse è lì sotto? O forse addirittura sopra? Forse è qui sopra Guarda qua No, neanche qui Che strano Il tettuccio rimane comunque sporco Molto molto strano eh Molto strano Cambiamo ugello Con Non mi riporto più il pulsante Per cambiare Questo è dove ci fa Dello sporco Ma intanto possiamo pulire Quella dal cane La ciotolina Ecco E poi A questo punto Lo preferisco usare Per andare a cambiare Per andare a cambiare ugello 25 gradi Usiamo questo ora Ok Questo è Questo è Qui ragazzi Mi manca il tetto Ma con questo qui Dobbiamo farlo per forza Dai Lo puliamo per forza Con questo il tetto Ma scusatemi Dov'è sporco il tetto? Il tetto è la cucchetta Voi lo vedete sporco? Io no Boh Continuo a segnalarmi Che sia sporco Ma A me è sempre tutto pulito Sinceramente Bug? È un buggino? Bugatino magari? Boh Forse mi serve Quello apposta Per il legno Per togliere Questo sporco qui Ma non è sporco Quello in realtà A parte che abbiamo Ancora un bel po' Da fare qui eh Allora Direi di Passare Alle staccionate qui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non mi ricordo più come anni. Volevo cambiare... Ah, ok, con la rotella posso cambiare l'ugello senza... Perfetto. Ok, con questo magari servono due passate, però proviamo a fare più in fretta. Perfetto. Ok. Ok. Questo manca. Perfetto. Eh, vedete, qui serve più pressione per pulire bene, eh. Con l'ugello quello troppo grande non ce lo facciamo. Ok. 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 Grazie a tutti. Ok, continuiamo a pulire il dialetto. Perfetto. Grazie a tutti. 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 Direi di fare tutto il dialetto prima, così ce lo togliamo. E rimane bello pulito. Grazie a tutti. Su, bene, abbiamo un altro lavoro. Le voci della nostra legge a dire si spargono. Florian e io passavamo le giornate ad arrampicarci su quelle rocce, le chiamavamo Monte Rushless e fingevamo lo stagno fosse il cratere o addirittura. Ci toccherò pulire anche lo stagno dopo. Non mi ricordo però come spiegavamo l'esistenza dei pesci. Beh, giustamente. Ok. Bene, bene, bene. Tutto pulito. Ok. Bene, bene, bene. Perfetto, qui c'era ancora un po' di sporco. Puliamo. Mi deve essere lasciato qualche macchiolina tipo qui. Ok. Perfetto. Oh, stiamo facendo un lavoro egregio, eh. Perfetto. 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 così sporco grazie a tutti ok buono così ok è rimasto un po' di sporco qua ok 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 buono abbiamo pulito anche il patio ok bene allora direi che il grosso penso sia stato fatto no? ora tocca al rivestimento stagno puliamolo un po' va questo rivestimento magari usiamo quello un po' più grosso ecco qua ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa fatica ad andare via questo sporco, eh? Dovremmo usare quello un po' più concentrato, mi sa. Per eliminare queste incrostazioni più infami. Ok. Ho fatto tutto qui. Cosa che manca? Ah, ce n'è ancora un po' comunque. Anche se non si vede particolarmente in realtà. Ok, perfetto. Ed ora le pietre. Una per una. Mi sembra di essere quelli che vanno a togliere il petrolio dalle pietre dove accadono gli sversamenti comunque in questo momento. Ok. Ok. Ehi, ho incontrato il custode del parco. Ho davvero bisogno del tuo aiuto. Un altro lavoro. E andiamo. Ok. C'era un bel po' da togliere di sporco dal muretto dello stagno. Guarda qua. C'era un casino in realtà. C'era un casino in realtà. Ok, così va già meglio. Anche se continuo a segnalarmi che c'è parecchio sporco. Però conta anche questo. Ok, allora va bene. Se conta anche quello va bene. Finiamo la parte superiore qui. Ok. 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 Perfetto. No, devo fare questo. No, devo fare questo. Bene? Bene? Perfetto. Qui mi sembra tutto abbastanza pulito. a questo punto possiamo finire da questa parte che è ancora invece tutto l'ercio perfetto perfetto vale allora io ho fatto tutto no? si palo qui sotto ho fatto tutto ok manca questo qui sopra perlomeno queste vibes da tom sawyer che pittura la staccionata anche se non la stiamo pulendo ok sul legno viene via che è una bellezza perfetto ok salire sul tetto no c'è un muro invisibile no non possiamo salire sul tetto comunque possiamo vedere cosa c'è fuori possiamo sparare? ah possiamo pulire anche fuori ok ok dai stiamo facendo un buon lavoro qui abbiamo fatto tutto manca solo l'ombrellone direi di spruzzare da qui sopra così sull'ombrellone ci arriva? non ci arriva questo si però questo per ora mi sa che è il getto migliore come rapporto potenza distanza potenza pressione essenzialmente è il migliore ah quello però fa fatica a pulirsi serve serve più potenza sul tavolino il tavolo da giardino ok il resto dello sporco sarà sotto il tavolo di plastica vediamo di andarci possiamo usare anche un getto più grande tanto siamo praticamente attaccati ok Il tavolo da giardino manca pochissimo, perfetto, e anche il tavolo da giardino è stato fatto, facciamo le sedie. Uno. Dai, pulisciti, cos'è che ti manca lì? Cos'è che ti manca? Ah, quello sporchino lì, ok, perfetto. Andiamo con quest'altra sedia. Ok, ultima sedia. Perfetto. Ed ora l'ombrellone. Dov'è ancora così tanto sporco? Sopra? Sì, sopra. Sei l'infallibile cerca sporco? Ho avuto il tuo contatto per un certo Harper Show. C'è un presunto problema di sporcizia al parco giochi locale. Ok, va bene, va bene. Arriveremo. Ho visto il camper dai miei sogni all'asta, tutto color crema, come un tortino su ruote, dovremo pulire anche un camper, quindi. Allora, noi per adesso qui sopra abbiamo fatto letteralmente tutto. Ma anche la parte sotto. Era indeciso se guidarlo o mangiarlo. E addirittura. Purtroppo è stato venduto per una cifra pazzesca, ma continuo a sognare. È un lucky bro. Guarda qua quanto è sporco. Tra l'altro anche l'idropulitrice comunque fa fatica, eh, con questo sporco qui. Guarda un po' te. C'è che mi conviene restringere un po'. Ecco, passiamo a questo. Ci serve un po' più di potenza in questo momento. Perfetto, gradino completato. Questo ne manca ancora un po'. Magari qui di lato. Guarda, è lo sporco persistente proprio. Guarda. 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 Ok, muretto completato Perlomeno Guarda qui quanto sporco No, volevo abbassarlo Ok Perfetto E qui è a posto Guarda diamo una pulita anche qui già che ci siamo Con questo oggetto potentissimo Portiamoci avanti un po' qua Guarda quanto sporco mi era sfuggito Ok Poi comunque torniamo qui E finiamo questa parte Scusa eh Questa parte non è stata fatta a bordo Iola Passiamo anche a bordo Iola Ah, ok Ok E poi sicuramente sarà sotto da pulire Perfetto Perfetto Eccoci qui Tra l'altro durano anche parecchio i livelli qui eh Durano davvero tanto Ok 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 Diamo una bella pulita al muretto No No Volevo solo cambiare Così Eccoci qua Eccoci qua Il rivestimento dello stagno Essendo pieno di alghe Fa davvero fatica a pulirlo Eccoci qua Perfetto 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 Ok Ok Manca davvero poco Il muretto dello stagno L'ho pulito quasi tutto Perfetto Ok Ok Niente male Niente male Ed anche il muretto dello stagno E il margine stagno Sono stati puliti Stagno praticamente completato Ora Finiamo questo muretto Perfetto Perfetto Cosa manca qua Cosa manca qua Qua Perfetto Devo aver pulito Devo aver pulito tutto Giusto Sì Ora mancano solo Queste cose qui Casettina dagli uccelli Perfetto 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 Sostegno Il sostegno Manca ancora qualcosa Sotto Esatto Ok Abbiamo poi il barbecue Con il suo bordo Perfetto 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 Grazie a tutti. 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 A carrello continua a mancare qualcosa. Questo è sporco, no? Puliamo il barbecue nel frattempo. Facciamo il coperchio. Ok. Sai che può mancare il carrello? Eccolo lì, cosa mancava? No, continua a mancare qualcosa. Guardalo lì dietro. Come faccio a raggiungerlo? Come faccio a raggiungerlo però se c'è la bombola? Da qui? Da qui? Ehm... E mi sa che manca solo quel punto lì da pulire, eh? Ho pulito tutto. Ho pulito tutto. Abbiamo cibi completata. Anche questo. Anche questo. tutto qui, no? Manca ancora questo. Tac. Ok. Perfetto. Perfetto. Però mancano solo questi. C'è solo. Faccio ancora un bel po' di roba. Sembra che tu abbia quasi finito. Le mie ragazze non vedranno l'ora di uscire. Eh usciranno, usciranno. un bel po' di potenza. Perfetto. Ma qual è il sedile tra l'altro? L'auto non è ancora stata pulita del tutto, ora sì però. grazie a tutti 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 grazie a tutti